Stiamo vedendo un rito che ci fa dire che tutto è tornato normale, perché stiamo vedendo il rito dei selfie. Professore Morrone, lei non guardi, perché diciamo quello che stiamo vedendo non è esattamente corretto dal suo punto di vista immagino. C'è un telefono, i telefoni che passano di mano in mano, adesso Salvini ha finito. Abbiamo visto una lunghissima fila e devo dire lui da questo punto di vista straordinaria pazienza. Li vede uno per volta e stiamo vedendo distanziamento poco, qui ricominciano i selfie mi pare. Direi nullo. Sì, distanziamento poco poco. Siamo preoccupati. Musumeci lei quando fa delle cose...